ciao a tutti benvenuti nel canale di walley oggi parliamo di zombie belli cartelli qui questa zona è sicura minga troppo comunque parliamo di zombieland doppio colpo o meglio zombieland 2 è una recensione senza spoiler ieri sera ho visto la proiezione per la stampa l'anteprima di questo film e quindi adesso andrò a raccontarvi quello che penso e vi spiegherò perché dovete andarlo a vedere oppure perché non dovete andarlo a vedere facciamo un posto indietro dieci anni fa circosci zombieland il primo in italia c'è solo in un video se vi ricordo fu un film che fece un grande successo non grande budget proprio perché presa in giro fece la parodia del tutto il mondo zombie film telefilm qualsiasi cosa che gira intorno al mondo zombie il secondo film non è da meno è assolutamente una parodia quasi demenziale di quelli che sono i cliché del genere zombie gli zombie si sono evoluti ci sono tre nuovi tipi di zombie anche i nomi sono significativi non ve li faccio perché altrimenti vi rovino la sorpresa e vi dico solamente una cosa che uno di questi zombie si chiama t800 è un film abbastanza ricco di citazioni nerd è un film che fa ridere dall'inizio alla fine però è una comicità demenziale il film riparte con i nostri quattro protagonisti che sono diventati più grandi sono passati dieci anni e vivono alla casa bianca vivono in un mondo ovattato senza rischi senza pericoli e a loro modo si divertono ad un certo punto la cosa che fa diciamo partire il film è la scomparsa di little rock non vi sto a raccontare nel perché nel per come perché ribadisco non ci sono spoiler in questo video e quindi ci sarà la discesa in campo di tutti e tre i tre rimasti che andranno a cercare per gli stati uniti little rock e qui andiamo a incontrare nuovi personaggi nuovi personaggi che vi daranno la sensazione di un cambiamento nel film di qualcosa che può succedere preparatevi niente è scontato in questo film anche se ribadisco è un film comico demenziale a basso budget gli effetti speciali sono in alcuni casi veramente ridicoli ma credo che non sia proprio questo il motivo per il quale uno va a vedere questo film non va a vedere un film perché ha questo tipo di film perché ha effetti speciali eccezionali perché c'ha una loggia no assolutamente è una presa in giro della dell'america quindi noi italiani potremmo non cogliere a pieno tutte quelle che sono le citazioni che vengono fatte le allusioni compagnia bella però è una presa in giro del sistema attuale americano non risparmiano colpi né repubblicani né democratici non vanno assolutamente a fare nomi vanno per fenotipi per stereotipi gli stessi protagonisti sono quattro stereotipi americani c'è il redneck c'è il sfigato c'è la donna dura che non ha paura di niente che non vuole impegnarsi e c'è la ragazza ribelle insomma abbiamo tutti questi classici stereotipi anche in questo film direbbe di cosa aggiungono nuovi personaggi anche questi tutti stereotipati tutti sono veramente dei classici personaggi stereotipi c'è la bionda scema c'è ci sono gli hippie che vogliono peace and love sono quelli chiamano le armi insomma c'è tutto un quacervo di stereotipi tipicamente americani perché dovete andare a vedere secondo me perché fa ridere io ho riso veramente dall'inizio della fine una comicità demenziale attenzione non è una comicità colta i dialoghi a volte lasciano un po desiderare spesso e volentieri un dialogo una battuta finisce con qualcosa di corporale lo scoprirete lo vedrete voi abbassa decisamente il livello del film però ribadisco non è importante io ho passato circa un'ora e mezza a ridere e divertirmi a vedere un film che prende in giro una delle mie passioni cioè gli zombie li prende in giro in modo molto molto divertente ma non risparmia colpi a nessuna tipologia di film o di correnti di pensieri sugli zombie perché non andarla a vedere perché non vi piacciono i film demenziali perché non vi piacciono le parodie perché non vi piacciono i film sugli zombie unico consiglio quando arrivate ai titoli di coda non uscite dal cinema ormai è diventata un'abitudine molte tipologie di film di lasciarci qualcosa dopo guardatela perché quella parte aiuta a riconciliarsi col primo film se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale qui sotto e pigiate sulla campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti dei miei filmati ciao a tutti